Valentina io voglio lanciare un appello, voglio ballare con te e tu mi devi far ballare con te, quindi o che sia amici o che sia fuori io voglio ballare con te, sei un guerriero, sai quello che vuoi hai grinta e sai dove vuoi arrivare quindi sei un animale da palcoscenico. Guardavo lui cioè guardavo anche quello che c'era intorno, ma il mio occhio andava su di lui perché ha questa grinta è proprio forte in tutti i sensi, ma metaforica cioè forte non fisicamente, è proprio forte, sa quello che vuole è un guerriero, lo definisco il guerriero di amici grazie mille pensiero alla sua proposta e dopo amici usciamo a ballare insieme anche adesso se vinco quel giorno libero possiamo uscire grazie mille grazie mille grazie mille grazie mille